132, MGTB del 1939, Enrico Martina Shaw, poi il numero di gioco, una buona aiutarda, questa ventola interdittura il 1925. Ecco un'altra Cisitella del C2 SMM, questa è del liberato. Cisitella del C2 SMM, inoltre dicella, il numero di gioco, un'altra scelta, un'altra scelta, un'altra scelta, un'altra scelta anche senza delocente. 3 3 3 4 4 5 5 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 21 22 22